Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa undicesima lezione di tutorial sulla programmazione in linguaggio C e C++ semplificata per non informatici. In questa lezione andremo a vedere il primo ciclo iterativo, quindi la struttura ciclica, che è il ciclo FOR. Vi ricordo sempre di studiare preventivamente e seguire, se non siete proprio sul pezzo ancora i diagrammi di flusso trovate la playlist anche riguardante quelli, quindi bisogna avere come prerequisito la conoscenza dei diagrammi di flusso, anche se in queste lezioni li ripeterò e li associerò poi al linguaggio di programmazione, quindi si parte sempre comunque dal diagramma di flusso e si fa una sorta di trasposizione poi in linguaggio di programmazione, ma il diagramma di flusso è quello che ci aiuta ad acquisire proprio la mentalità per quanto riguarda lo svolgimento degli esercizi e quindi poi la programmazione. Allora per quanto riguarda il discorso, la struttura del ciclo FOR, allora la prima cosa importante da ricordarsi è che viene utilizzato sempre e solo quando il numero di ripetizioni, quindi io ho un ciclo, devo sapere esattamente il numero quindi questo numero deve essere noto a priori. In questo caso abbiamo il primo esempio che richiede semplicemente un programma che stampa i numeri da 0 a 9 utilizzando il ciclo FOR ovviamente e noi quindi sappiamo già quanti sono, quindi sappiamo già che dovremmo stampare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 quindi dovremmo fare i nostri cicli. Quindi ho la conoscenza a priori di quante volte vado a ripetere quel ciclo. Esisteranno poi altre strutture cicliche in cui invece che possono alle volte essere utilizzate uno al posto dell'altro, alle volte invece se io ad esempio non so a priori quanto, quante volte si ripete il ciclo ma so che deve uscire con una certa condizione non potrò usare il ciclo FOR ma devo utilizzare un'altra struttura. Quindi in questo caso come si va a scrivere sintatticamente il discorso del ciclo FOR? Allora, noi vogliamo fondamentalmente stampare questi numeri bene, sono numeri interi quindi dobbiamo associare una variabile di tipo intero. Questa variabile che cosa fa? Questa variabile all'inizio vale 0, dopo vale 1, poi 2, poi 3 e così via, quindi ho la stessa variabile che viene incrementata. Quindi qui ci ritroviamo, e lo vediamo bene nel diagramma di flusso, poi vedremo invece la sintassi della programmazione, ci ritroviamo un'inizializzazione della variabile, quindi all'inizio la variabile deve essere inizializzata a 0 la prima volta che entra nel ciclo, cioè fuori dal ciclo, devo dire ok parto da 0. Controlla poi la condizione, se è verificata, quindi in questo caso appunto da 0 a 9 ho, devo avere una i minore di 10, perché devo stampare 0, 1 fino a 9, il 10 non lo voglio più. Quindi controllo che i sia minore di 10, se è vero stamperò i, quindi la prima volta avrò i che è uguale a 0, 0 è minore di 10, si stampo 0. Poi ho l'incremento e questo ricordiamoci, l'abbiamo visto nella lezione precedente, quella che è la variabile diventa di accumulo, quindi in questo caso avrò che la parte di destra, ricordiamo sempre l'uguale è un'assegnazione, quindi vado la parte di destra che in questo primo ciclo varrà 0 più 1, quindi il totale vale 1, va a finire nella i, quindi il nuovo valore della i sarà quello vecchio più 1, quindi in questo caso incrementerò da 0 a 1. Torno indietro, ripeto il ciclo, allora a questo punto i vale 1, 1 è minore di 10? Sì, quindi stamperò 1, poi la i diventa 1 più 1, 2. Torno indietro, 2 è minore di 10? Sì, vero, quindi stamperò 2 e così via. Arriverò ad avere poi 9, quindi arriverò ad un certo a questo punto, torno indietro, qui mi dice 10 è minore di 10? No, quindi non seguo più il percorso di prima, ma esco di qua, falso e finisco il mio programma. Direi che è abbastanza chiaro da capire, spero, cioè in genere la prima volta che si vede è molto chiaro, dice sì sì ho capito, poi quando magari invece è da utilizzare o da implementare magari un pochino meno. Ovviamente si prende in genere la variabile i, ma potete utilizzare la variabile che volete, anche n, però generalmente viene scritto appunto con la variabile i. Andiamo a vedere come trasformare quindi in programmazione in linguaggio C questo primo esempio semplice, poi andremo a vedere invece di sapere a priori, cioè di conoscere, a priori dobbiamo sempre saperlo, però lo andiamo ad acquisire il numero di conteggio finale. Allora, prima di tutto andiamo a vedere questo, allora intanto vediamo il programma e eccolo qua sotto, vediamo un'altra istruzione ma molto semplice, semplicemente del printf. Allora intanto abbiamo la nostra libreria di input output, poi int main, poi la variabile ci serve solo la i di tipo int e poi la struttura di programmazione che l'ho fatta un po' più staccata, le volte la trovate anche tutta attaccata così, però almeno si vede bene. Allora, per i uguale a 0, perché il discorso che in programmazione si scrive tutto sulla stessa riga, quindi in realtà io qua ho tutta la stessa istruzione che mi dice allora, inizializza i uguale a 0, poi se i è minore di 10, fai quello che ti dico sotto, anche qua, se c'è una riga sola sarà senza parentesi graffe, se deve fare più cose, più istruzioni saranno racchiuse tra parentesi graffe. In questo caso deve solo stampare il valore in quel che ha la i in quel momento. Questo mi dice semplicemente di stampare, ricordatevi, il percentuale di i, il valore di i e questo backslash t mi lascia un tab, quindi una distanza tra uno e l'altro. Io qua, come vedete, invece avevo lasciato il backslash n che mi va a capo, quindi se mettete l'n ve li incolonna così a capo, invece col t adesso vi faccio vedere come li stampa. E poi praticamente, quindi, la prima vede questa, inizializza, poi guarda la condizione se è soddisfatta fa questo e poi incrementa di 1 fino ad raggiungere ovviamente il valore, in questo caso può essere minore stretto come abbiamo qua, quindi nel momento che la variabile vale 10 la condizione non è più soddisfatta e quindi uscirà dalla parte ciclica, oppure posso avere minore uguale, quindi in questo caso farà ulteriormente il ciclo del 10, in questo caso, ok? Allora, quindi andiamo a vedere, vedete come distanzia di un tab, quindi li mette tutti in ordine, così distanziati, se non metto niente li mette tutti appiccicati, ovviamente. Se invece faccio vedere il discorso do minore uguale, ma non è il caso di questo programma, vedete che stampa ulteriormente il 10, ma ricorreggiamolo perché ci aveva chiesto effettivamente da 0 a 9 e quindi in questo modo qua. Per quanto riguarda invece il vabbè, il C++ non è che sia tanto diverso, cambia veramente poco e niente. Ecco qua, quindi qua stesso programma, ovviamente in C++ avremo la diversa libreria, lo using namespace std per scrivere c, cout, in questo caso perché non c'è in modo semplificato, stessa identica cosa per quanto riguarda il discorso delle istruzioni, ma lasciamo un po' più così separato. Ecco, una cosa da... allora, si può in realtà, si può anche scrivere, anziché I uguale I più 1, si può anche scrivere in questo modo, I più più, vuol dire che l'incremento di 1 e la tabulazione, quindi in modo che rimangano separati, vado a scriverlo in questo modo, con cout, virgolette, poi un apice e il backslash t. Quindi in questo modo lo vedete scritto così, vedete il discorso, quindi in genere quando si scrive in C++ proprio perché l'istruzione in genere viene scritta più come I più più rispetto a I uguale I più 1, ma questo anche poi come per semplificazione un po' da tutte le parti, ecco. Ecco, ricordatevi solo che solo in C++, se lo fate in C non va bene, quindi è solo un'istruzione da poter utilizzare qua. Bene, allora, faccio la copia di questo, lo riporto di là e poi vediamo le conclusioni. Ah no, c'era ancora l'altra parte, vero? Guardate che, allora, copio questa e poi facciamo l'altro pezzo. Allora, se vogliamo invece fare in modo che ci richieda il numero fino al quale vogliamo contare, ovviamente sempre col discorso partendo da zero, dobbiamo intanto inserire il numero o con la n maiuscola o num, l'importante è che sia poi sempre lo stesso come intero, poi andremo a scrivere fino a quando vuoi contare, ad esempio, quindi una frase per dire che si aspetta l'inserimento di un numero, lo scan F, quindi percentuale D e commerciale N e poi qua semplicemente se vogliamo che effettivamente conti fino a quel numero, uno dice, vabbè, voglio contare fino a dieci, in genere dieci è incluso, quindi abbiamo il discorso di mettere minore o uguale qua nelle condizioni. Se vogliamo, ad esempio, che parta da uno, andremo a mettere, aspettate che devo stopparlo perché stava già, quindi andrò a mettere, che ne so, voglio che conti da uno al numero, ad esempio, fino a quanto vuoi contare, mettiamo dieci, conterà da uno a dieci. Se voglio contare da, vabbè, facciamo sempre da uno fino a 50, vedete, con il tab, vabbè, adesso qua è andato un po' fuori, però poi continua qui e va a capo fondamentalmente, se no ve le mette tutte in fila uno sotto l'altro. Adesso per non fare dei numeri troppo grandi, mettiamo ad esempio fino a 25, anche questo mi va fuori, mi va fuori linea, andiamo a 15, no, 5 vabbè, è un po' poco, 15 volevo fare, ok, che così rimangono sempre distanziati col tab. E stessa cosa, anche questo cambia poco sul discorso, facciamo anche la copia di questo, poi col c++, qua andiamo a vedere con il c++, cambia granché, dobbiamo appunto inserire la variabile qua nella dichiarazione e poi cout fino a quando vuoi contare, a capo e cin, tanto qua è sempre la stessa cosa di prima. Quindi andiamo a fare l'esecuzione, ve lo faccio rivedere, ad esempio 12 e vi conta fino a 12, poi ovviamente anche qua, sempre col discorso del tab inserito in questo modo. Bene, direi che così è tutto, copio ancora questo nella pagina di là, vi ricordo che tutte le lezioni sono comunque caricate sul sito Moodle, in modo da poterle comunque riguardare, rivedere la parte scritta. Ecco qua, alla fine i due programmi a confronto nelle due situazioni. Bene, spero sia tutto chiaro, questa prima lezione sul cicloforo, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!